Radio Bari.cult, gli incontri culturali e musicali in primo piano su Radio Bari. Ciao Bari, buon venerdì 27 giugno a tutti, ben ritrovati su Radio Bari.cult, io sono Barbara Cirillo in vostra compagnia per tenervi aggiornati sui tantissimi appuntamenti della settimana. E continuiamo appunto a parlare di appuntamenti della settimana e concludiamo questa settimana di Radio Bari.cult insieme a Giovanni Calabrese. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a tutti voi, buona mattinata a tutti, ben ritrovati, nonostante il caldo. Nonostante il caldo, ne stavamo parlando proprio adesso insomma, quei discorsi che si fanno. Si sta bene qui anche gli studi di Radio Bari, nonostante il faro insomma acceso. Allora Giovanni siamo insieme qui perché oggi parliamo di una serie di eventi che tra l'altro abbiamo sempre inserito all'interno del nostro calendario di Radio Bari.cult, però spesso io inserisco soltanto il nome dell'evento, il luogo e insomma la data. Quando ho parlato dei vostri eventi, ho elencato uno dei vostri eventi, dicevo appuntamento sul lungomare bus 36 alle ore 21. Uno dice ma che è? Quindi ho deciso di invitarlo per farvi spiegare questo nuovo tipo di serate. Infatti nei ultimi periodi c'era gente che correva a destra a manca sul lungomare senza senso. Li ho fatti perdere io. Allora che cos'è bus 36? Allora bus 36 in realtà è una sfida contro tutta questa un po' di cattiva sorte che è al sud. È stata una missione, è stato un progetto che è nato per un altro paese e poi le mie origini di quei di Bari mi hanno riportato qui. Ho detto è una sfida, riproviamo. È un'idea che comunque all'estero, anche in Europa, c'è. Funziona. C'è da tanto tempo. Io l'ho fatto anche in Australia e Melbourne, l'ho visto, abbiamo visto qual era la parte più adattabile a Bari. Nonostante processi lunghi, burocratici, amministrativi, ce l'abbiamo fatta. Praticamente che cos'è? Loro organizzano delle serate piuttosto che in un locale su un bus a due piani. Certo, tipico inglese anni Ottanta, smantelato, riallestito a modo di locale viaggiante. Quindi nella parte superiore c'è un privé discoteca con console, video e impianto audio. E invece nella parte inferiore è la parte attrezzata, quindi con il bar, bagni, servizi, altri divanetti, portavivande, frigo. Insomma è la parte diciamo di chi non balla. Di chi non balla? Di quelli che stanno seduti lì a chiacchierare, giusto così? E lo facciamo in formula itinerante sul lungomare, la durata è di circa tre ore, dove dispensiamo delle soste, dove c'è quella panoramica, quella delle foto, ci fermiamo, mettiamo il banchetto, la torta, festeggiamo. Quindi è molto varia. Partiamo dalla festa dei bambini all'anniversario, abbiamo fatto 25 anni di matrimonio. Di tutto e di più. E poi avere proprie serate per far divertire tutti, come ad esempio quella che ci sarà sabato, ci sarà una cena con delitto, che è una formula che va di sold out. Perché insomma è una formula di serata diversa anche quella, la cena con delitto, però farla su un bus è ancora più particolare. Non voglio, però forse siamo i primi in Italia, non lo so, o qualcuno lo fa di nascosto, però dovremmo essere i primi a fare il delitto a bordo in formula itinerante. Quindi ci sarà, noi daremo degli indizi sia a bordo, video che registrati. In più troveranno in, adesso non svelo tutto ovviamente. No, no, se no, ora svegliamo tutte le sorprese e non vorrei rovinare. Troveranno dei personaggi particolari in alcune soste, possiamo dire che sono artisti di strada. Sì, sì, e perché? Che daranno gli indizi e saranno gli indiziati e quindi i probabili colpevoli di questo assassino. Quindi a bordo avremo tipo la sagoma tipo CSI. Bellissimo. E dovranno indovinare chi è stato, l'arba e ovviamente in quale sosta. Il movente anche, immagino. È il movente, ovviamente. Il movente è soldi. Sono sempre quello, insomma, mannaggia. Ascolta Giovanni, poi tra l'altro ci sono non soltanto insomma la cena con delitto, però concerti e anche serate insomma di musica. Sì, più che concerti, per lo spazio ovviamente. Diciamo delle serate dedicate sia alla musica, adesso abbiamo provato con delle serate a tema andando anche un po' verso il jazz o comunque musica di intrattenimento. Ovviamente siamo aperti anche a nuvi idee, anche proposte direttamente dai clienti, dagli ospiti che salgono a bordo. E piano piano la nostra cosa è fare per l'inizio di settembre invece un tributo proprio ai Beatles, visto che siamo in tema. E quindi allestirlo proprio in maniera particolare e quindi visto che ci sono tanti fan di tutte le generazioni, vedere una cosa del genere. Non sarebbe affatto male. Quante persone può contenere il bus? I posti sono 40, quindi fino a 40 posti. In realtà il bus è omologato per molti di più, però noi l'abbiamo riadattato a salottino e quindi sono 40 posti. Senti, per qualsiasi informazione, oltre che insomma noi diamo sempre gli appuntamenti quando ci sono, almeno una volta al mese, voglio dire, bus36 propone un nuovo appuntamento ai baresi. No, per noi è assolutamente un piacere, però... Poi faremo una festa delle bari a bordo. Facciamo una festa, perché no, vedi, una festa... Promettete voi musica. Ha sentito festa, vedi, c'è Pasquale 33, lo mettiamo in console il direttore. Giovanni, un'ultima cosa. Per avere informazioni, insomma, sulle varie serate, sul calendario degli eventi, dove si può trovare, dove si può andare? Allora, chiamare il... posso dirlo? Sì, dillo, 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 dillo pure. Il 329-866-6887 che troverete sul nostro sito che è www.bus36.it o sulla pagina Facebook Bus36. Trovate tutte le prime informazioni, ovviamente, se ci chiamate, fissiamo un appuntamento in privato, quindi potete comodamente vedere il bus in privato, che, vederlo con tante persone, non hai mai il tempo di spiegare tutti i servizi che puoi dare. E quindi, insomma, è un... Questo è quanto, insomma, come si dice, questo è quanto. Noi continueremo a dare gli appuntamenti, ovviamente, di Bus36. Ringrazio Giovanni Calabrese per essere stato qui con me questa mattina. E noi ci risentiamo tra pochissimo con un punto doc. Grazie.